Un podcast condotto dal lettore del Puliba, Francesco Cupertino, con ospiti, divulgatori scientifici, ma anche influencer e youtubers. È stata l'idea del Politecnico di Bari per dare il via alla nuova campagna di matricolazione 2024-2025. Il percorso che l'Ateneo Pugliese vuole seguire quest'anno è quello di approcciarsi a qualsiasi mezzo per avvicinare la generazione Z alle discipline STEM, ricorrendo all'utilizzo di piattaforme digitali e social network. Non esistono scorciatoie e il successo si raggiunge grazie all'impegno, dopodiché questi strumenti aggiungono complessità. È possibile fare cose in più, farle in modo diverso. Chiunque si debba occupare di comunicare con le giovani generazioni, si deve anche confrontare con i nuovi strumenti di comunicazione. Durante l'agitazione del podcast dal nome Cogito Ergo STEM sono stati proiettati, oltre ai nuovi percorsi accademici, sempre più social come Ingegneria della Creatività Digitale, anche i risultati raggiunti dal Puliba nell'ultimo quinquennio. Tra questi, secondo l'ultimo rapporto al Malauria, la Deneo Pugliese si colloca al primo posto in Italia per tasso di occupazione con il 90,8%. Nel dettaglio, le laureate di genere femminile hanno un tasso di occupazione maggiore del 13,3% rispetto alla media nazionale. Per commentare il risultato è stata invitata Alessia Bonometti, Creative Content Creator di Ingegneria Italia. Spesso mi ritrovo l'unica donna nella stanza e la trovo una cosa gratificante perché sono riuscita ad arrivare ma allo stesso tempo vorrei che non fosse così. Riccardo Leferro, in arte Rick Duferre, anche gli ospiti del podcast, ha risposto alle critiche di chi non reputa che il web possa essere una forma d'apprendimento. I filosofi antichi, se avessero avuto Instagram, YouTube, avrebbero usato queste piazze virtuali perché erano soliti parlare con le persone e oggi le persone si trovano lì. Grazie a tutti.